Adesso vedere, sono anni che frequento Ofeo, via Kencia che sapete, mi sta sulle palle. Ma come? Vabbè, indipendentemente dalle tue antipatie simpatie. Perché non è, adesso è chiaro, fare delle riunie su di loro è semplice, io personalmente non me la... Guarda come gli dispiace. Eh, guarda, è molto... Il farito è un burrico, è un figlio. Non me la... Moplano lo rapprezza.